Stiamo parlando della diatriba tra i tassisti e gli NCC, noleggio con conducente. Facciamo chiarezza, il noleggio con conducente effettivamente ruba il lavoro ai tassisti in questo periodo anche di grossi cantieri a Firenze. Hanno un po' ragione i tassisti ad avercela con voi o no? No, perché le tipologie dei servizi sono nettamente diversi. I tassisti pensano che noi andiamo a rubare il lavoro perché pensano che tutti gli NCC lavorino per Uber. Mentre noi se volevamo fare tassisti non facevamo gli NCC, sono due categorie completamente diverse di lavoro. Una delle norme che regola gli NCC riguarda l'obbligo che hanno di ritornare in rimessa. Questo ovviamente è un problema soprattutto per le auto che arrivano dai comuni limitrofi di Firenze. È una norma del 92. Noi attendiamo da anni che questo cavillo burocratico venga soppresso perché nel 92 non esistevano cellulari, mail e app. Chiariamo subito una cosa però, le macchine NCC che vediamo per esempio davanti alla stazione di Santa Maria Novella sono lì perché sono state chiamate da un cliente? Certamente, noi possiamo dimostrare con ordine di servizio che siamo lì a prelevare un cliente che ha prenotato in precedenza. L'altra settimana siamo stati controllati minuziosamente dalla Guardia di Finanza che non ha trovato nessuno in difetto. L'unica cosa su cui ho qualche perplessità è che hanno chiesto i documenti anche ai clienti. Tutto questo ci arrega un danno di immagine. Cosa direttamente è un'azvolta? Grazie.